La chiave del 27esimo piano ovviamente simbolica che da questo momento viene consegnata al nuovo padrone di casa. Siamo onorati che voi abbiate accettato di collocare qui questi uffici perché appunto il lavoro che voi svolgerete lo sentiamo svolto anche a nostro vantaggio, anche a nostro favore, a vantaggio a favore di tutte le famiglie di Lombardia e di tutte le famiglie del mondo. La famiglia è veramente al di là di ogni retorica la colonna portante della società, elemento assolutamente fondamentale nell'avventura della persona umana e nello stesso tempo struttura infragilita da troppe scelte culturali e politiche che in questi decenni hanno teso a svalutare il ruolo fondamentale della famiglia. È il primo evento mondiale che avviene in Italia fuori dalla città di Roma ed è stato affidato alla città di Milano. Il tema è un tema molto interessante. La famiglia è il luogo delle radici più intime da cui ogni persona trae la sua migliore sostanza e io dico tale è la famiglia, tale è la città. E gli dici signore questo luogo di lavoro e tutti coloro che vi lavorano, conserva il loro cuore nella pace, dirigi i loro passi sulla via del bene, mantieni l'insalute e tieni per loro preparato un posto nel tuo paradiso. Grazie a tutti.